Ogni tanto Adobe Camera Raw si evolve e qualche volta nelle sue evoluzioni vengono introdotti degli strumenti che cambiano veramente radicalmente il flusso di lavoro in meglio. È il caso di una nuova regolazione che è stata introdotta con l'ultima revisione di Camera Raw, quella di Photoshop CC 2015 e di Lightroom CC 2015, cioè Camera Raw 9.1, che si chiama Rimuovi Foschia. È un oggetto veramente straordinario, tanto che è stato davvero apprezzato dagli esperti e anche dai fotografi amatoriali. Si trova in una posizione un po' strana, perché lo si trova all'interno dei pannelli dedicati agli effetti speciali, dentro la sezione effetti qui di Lightroom. Ma in realtà è un controllo che vi consiglio assolutamente di includere nella lista dei controlli da utilizzare durante lo sviluppo standard, perché può rendere migliori tutti i nostri scatti, non soltanto quelli con Foschia appunto. Ora, questo è uno scatto che è proprio adatto allo scopo. È stato fatto su un vulcano e quindi la Foschia è praticamente ovvia. Vediamo come funziona su uno scatto che è proprio nato per questo scopo. È sufficiente spostare il cursore verso destra, valori positivi, e vedete come incredibilmente saltino fuori i colori, i dettagli e il contrasto da questa fotografia. Lo vediamo anche tra il prima e il dopo, attiviamola con il tasto Y della tastiera, su Lightroom o Q, su Camera Raw, quanto sia potente questo strumento. D'accordo, la foto potrebbe essere leggermente più scura, normalmente diventa più scura, e i colori potrebbero virare leggerissimamente. Ma possiamo intervenire in compensazione con gli strumenti di regolazione tonale e di bilanciamento del bianco, magari andando a scegliere un tono leggermente più freddo e un'esposizione che compensa la variazione cromatica. Il risultato è assolutamente eccezionale, quindi questo è un caso abbastanza tipico di utilizzo. Qui ne abbiamo un altro, sempre uno scatto con della Foschia, qui indotta dal treno, e anche in questo caso guardate come il semplice spostamento del cursore cambi notevolmente l'aspetto di saturazione di colori e di dettaglio degli oggetti che saltano fuori da questo scatto. Guardate proprio anche come l'istogramma aumenti visibilmente il contrasto, perché si schiaccia e si allarga, lo vedete prima e dopo. Molti meno picchi, molto più larghi, abbiamo detto contrasto che viene migliorato. Anche in questo caso è risultato assolutamente ottimo. Vi faccio presente che, come vedete, il parametro rimuovi Foschia può essere usato anche in negativo. Per aggiungere Foschia, come in questo caso, potrebbe essere comodo se volessimo far sparire le persone che sono in questo scatto e magari poi elaborarlo in bianco e nero, ma questo è più un contesto da effetto speciale. Quello che ci interessa è il miglioramento degli scatti in fase di sviluppo standard. Sviluppo standard che può essere sfruttato quindi anche in caso di assenza di Foschia, come in questo caso. Guardate come il parametro rimuovi Foschia ci permetta di recuperare in maniera molto drammatica i dettagli del cielo e anche delle pareti di questa chiesa e naturalmente possiamo sempre, se vogliamo, controbilanciare con esposizione, saturazione, eccetera, gli eventuali piccoli difetti che possono saltar fuori dall'utilizzo eccessivo di rimuovi Foschia. Ma è assolutamente interessante il risultato che riusciamo ad ottenere grazie a questo nuovo parametro. Anche qui un altro esempio rapido, giusto per confermarvi che è uno strumento che secondo me rientra a pieno titolo nelle regolazioni iniziali standard del nostro scatto. Anche in questo caso abbiamo ottenuto un risultato che non ci aspettavamo.